Backstage L'Unezia 2017 con Cosmo, dove sei? E' lui, voglio stare solo io qua dentro, vedi già quelle mani di protagonismo scattano L'Unezia guardate che bello in questa fantastica cornice a Marina di Carrara no? Ah ma ci guardiamo proprio? Siamo in questa fantasia, bravo grandissimo, posso fare le boccacce no? Dobbiamo parlare lì o qui? Converrebbe dentro i tuoi occhi in realtà, però... I capelli di Meta sono già partiti, sono da barbiere Allora, sceso dal parco perché è il numero 2, che bello Le mani giunte, facciamola vedere, è un periodo della madonna Facciamo così che siamo tanto carini in fila, in fila qui...